Le politiche dell'austerità sono corrette nell'impostazione di principio. Occorre risanare le finanze pubbliche, tuttavia il tentativo di farlo come la Germania sta imponendo in tutta Europa simultaneamente e in particolare ai Paesi che hanno un elevato debito pubblico è fortemente controproducente. Scendono i consumi, scendono gli investimenti, il tentativo di risparmiare di più rende il sistema più fragile, ci sono meno consumi, meno investimenti, meno entrate e quindi il rapporto debito pubblico sale invece di scendere. Grazie 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 Grazie